Innanzitutto permettetemi di ringraziare lo sponsor del mio canale YouTube, ovvero CryptoRefils, senza cui non potrei continuare a fare video. Con CryptoRefils potete fare acquisti pagando in criptovalute su un sacco di siti web e negozi, ma a fine video vi spiego meglio come funziona. Dovete sapere che i mercati cripto, sebbene molte persone pensino il contrario, in realtà sono molto piccoli, soprattutto se confrontati con quelli azionari. Questo significa che sono tendenzialmente più facilmente influenzabili. Cosa significa? Significa che chi ha a disposizione grossi capitali può influenzare i prezzi delle criptovalute, anche delle principali criptovalute, in determinati momenti. Magari non sempre, ma in determinati momenti sì. Come? Beh, semplicemente vendendo grandi quantità di criptovalute quando il sentiment è negativo, cioè quando le cose stanno andando male, o comprando grandi quantità di criptovalute quando il sentiment è positivo, ovvero quando le cose stanno andando bene. In questo modo, chi dispone di grandi capitali può influenzare i mercati cripto in determinati momenti, facendo in pratica scendere i prezzi più del dovuto vendendo, oppure facendoli salire più del dovuto comprando. Ebbene, in gergo tecnico, coloro che operano sui mercati finanziari con grossi capitali vengono definiti, vengono chiamati balene. Quindi le balene sono in grado di influenzare i mercati cripto, soprattutto in alcuni momenti. Quindi, cosa possono fare? Ad esempio, quando c'è un momento in cui il sentiment è un po' negativo, possono intervenire per influenzare i prezzi, così come vi ho descritto prima, facendoli in quel caso scendere, per poter comprare a prezzi bassi, anzi, a prezzi più bassi del dovuto, più bassi di quelli che sarebbero naturalmente senza il loro intervento in massa, cioè con grandi capitali. Ah, ovviamente per poterlo fare devono convincere gli altri, e in particolare gli investitori dilettanti occasionali, a vendere a prezzi bassi. Quindi in quel caso loro fanno affari a scapito soprattutto dei piccoli investitori dilettanti occasionali. Poi, una volta accumulate criptovalute in questo modo, quindi comprate a prezzo basso, quando il sentiment diventa positivo, possono influenzare positivamente il mercato per far salire il prezzo a livelli più elevati di quelli normali naturali che ci sarebbero senza il loro intervento, certo devono poi convincere i piccoli investitori dilettanti occasionali, che prima avevano convinto a vendere, in questo caso, in questo nuovo caso, devono convincere a comprare a prezzo più alto, ed ecco che di nuovo fanno affari a scapito soprattutto dei piccoli investitori dilettanti occasionali. Che cosa significa tutto questo ragionamento, ovvero dove voglio arrivare? Voglio arrivare a farvi capire che bisogna fare attenzione a vendere sull'onda del panico, della paura, quando il sentiment è negativo, perché potrebbe esserci dietro un tentativo da parte delle balene di farvi per l'appunto vendere a prezzo troppo basso solo perché loro possano comprare ad un prezzo più basso del dovuto. Stessa cosa, al contrario, quando il sentiment è particolarmente positivo, bisogna stare attenti a comprare sull'onda dell'entusiasmo, perché magari quell'eccesso di entusiasmo può essere dovuto a fenomeni anche legati alle balene che stanno cercando di influenzare il mercato per farli comprare a prezzi troppo alti. Certo, sarebbe bello sapere cosa fanno le balene quando comprano o quando vendono, perché per difendersi da questo meccanismo basterebbe in realtà fare quello che fanno loro, al posto che fare il contrario, però ovviamente cercano di nascondere queste loro operazioni in modo da non essere imitate. Perché? Perché hanno bisogno che quando loro comprano ci sia qualcuno che è disposto a vendere a prezzi bassi e quando loro vendono che ci sia qualcuno disposto invece a comprare a prezzi elevati. Figlio di più è proprio seguire il sentiment di mercato che non è una buona idea, perché quando si opera sui mercati finanziari bisognerebbe mettere da parte le emozioni, come ad esempio la paura o l'entusiasmo, e usare invece solo la ragione. D'altronde, come avrete capito, le stesse balene, quando il sentiment è negativo, quando si diffonde la paura, non vendono ma comprano. E al contrario, quando si diffonde un sentiment particolarmente positivo, un eccesso di entusiasmo, non comprano ma magari vendono. Poi per carità, questo che vi sto facendo è un discorso estremamente generico, poi andrebbe calato caso per caso, un momento per diverso, un momento perché poi ci sono anche delle eccezioni, ovvero ci sono dei momenti in cui magari le balene vendono per paura o comprano per entusiasmo, anche se questo è un po' più difficile. Tenete inoltre presente che queste balene con grandi capitali sono poche, quindi sì, è vero, hanno grandi capitali, però sono pochi soggetti con grandi capitali. Dall'altro abbiamo una marea, un numero esagerato, enormemente elevato, di piccoli investitori dilettanti occasionali, milioni, che magari hanno ognuno di essi capitali molto piccoli, o comunque non particolarmente elevati, e però messi insieme fanno una bella cifra. Quindi forse abbiamo una sorta di equilibrio tra le poche balene con grandi capitali da un lato e l'enorme numero di piccoli investitori con piccole capitali dell'altro. Badate, sto parlando dei mercati cripto, ok? Nei mercati tradizionali è un po' diverso, perché forse questo equilibrio non c'è ed è sbilanciato a favore delle balene. Nei mercati cripto invece c'è una fortissima presenza di piccoli investitori e in realtà la presenza delle balene c'è, però sicuramente non è come quella sui mercati tradizionali. Spero di esservi stato utile e soprattutto di avervi fatto riflettere e ora non mi resta che lasciare lo spazio allo sponsor. Un saluto, ciao! Con CryptoRefix è possibile fare acquisti su tutti questi siti web e questi servizi online pagando in criptovalute, ma come si fa? In realtà è facilissimo perché è sufficiente acquistare su CryptoRefix una gift card pagando in criptovalute e poi usarla per pagare sui vari siti web. Tra l'altro la procedura è molto veloce e la gift card arriva via email e non c'è nemmeno bisogno di fare una registrazione. Oltretutto non solo si può pagare in diverse criptovalute, ma anche usando diverse reti, c'è sicuramente l'IT Network, c'è Ethereum, ma ci sono anche Polygon, Avalanche, Phantom, Arbitrum e BSC, cioè la blockchain di Binance. Volendo è possibile anche cliccare in alto e collegare direttamente il proprio wallet a CryptoRefix per facilitare i pagamenti. Vi metto il link in descrizione così potete fare qualche prova e verificare che effettivamente è molto facile e veloce. Infine, se volete approfondire, vi consiglio di andare nella sezione domande frequenti dove trovate un sacco di risposte a possibili domande che in questo momento vi state facendo. Grazie a tutti.